Massimo Duranti, critico d'arte, che ha curato la parte di questa ariopittura, possiamo così chiamarla, di vertigine Umbra, la parte dedicata a Dottori e Bruschetti. Qual è stata l'idea per creare questa sinergia tra questi autori? Sì, l'idea è nata intanto guardando le immagini dell'Umbria dai droni, che adesso vanno molto di moda. Poi, con Cristina Leangis, la direttrice della Cariarte, ci siamo ricordati delle foto aeree di Ficola e abbiamo cominciato a guardare che c'erano delle precise analogie con le visioni dall'alto pittoriche di Dottori, che è stato il maestro dell'aeropittura, cioè della specificazione del futurismo che si rivolge alla visione dall'alto del paesaggio, e il suo più giovane collega, Alessandro Bruschetti. La mostra poi si è allargata, nel senso che fa vedere non solo le immagini dai droni, dagli elicotteri, dal parapendio, e le tante bellissime foto di Ficola dall'aereo. Poi c'è una sezione che illustra alcune aeropitture sia di Dottori che di Bruschetti. E infine c'è questa sala dove ci sono 14 confronti fra alcune aeropitture di Dottori di Bruschetti e le foto di Ficola, dove veramente sembra che il fotografo e il pittore sono stati nello stesso punto a ritrarre, o con il pennello o con la macchina fotografica, aspetti del paesaggio e delle architetture. Poi ci sono anche dei dipinti di Dottori inediti che non sono mai stati visti in una mostra. Sì, la ricerca è andata avanti e per l'occasione abbiamo tirato fuori, detto alla Perugina, alcune opere inedite o anche mai esposte. Questa, alle mie spalle, è eccezionale, è una delle cose più belle di questa mostra, perché è un rarissimo esempio di divisionismo di Dottori del 1913 con un paesaggio non meglio identificato, con un'alba bellissima. Così come di Bruschetti c'è una visione del Trassimeno quasi realista che abbiamo scoperto un mese fa. Dimenticavo è importante, c'è anche una sezione dedicata, la regione ci ha dato una mano all'aerofotogrammetria, e poi con la Biblioteca Augusta una serie di stampe antiche dalla fine del 400 in poi che ritraggono Perugia e alcune città umbre dall'alto. Quindi c'è una visione a 360 gradi dell'Umbria vista dall'alto. Vertigine Umbra, questa mostra importante che è stata realizzata per dare un'idea di, Massimo Durante ha chiamato areopittura, quindi due grandi artisti, due grandi pittori, Dottori e Bruschetti, affiancati, quindi l'idea è stata di affiancare a un fotografo contemporaneo che dei paesaggi dell'Umbria dall'alto con elicotteri, droni, anche con le nuove tecnologie, una sinergia importante. Penso che sia per lei una grande soddisfazione partecipare a una mossa del genere. Direi che vicino ai Dottori mi sento talmente piccolo che mi chiedo quasi scusa. Comunque queste semilitudini delle mie fotografie, che lui al tempo aveva visto 60, 70, 80 anni fa dall'aereo, c'è qualche analogia. Volando ad altezze non vertiginose c'è qualcosa da poter recuperare vicino ai quadri di Dottori e Bruschetti. Questo non perché io avessi voluto fare la stessa cosa, perché nemmeno sapevo che poteva essere fatta una mostra del genere, né tantomeno ne immaginavo. Però quando incontravo i Dottori all'Accademia delle Belle Arti, che io ho fatto tantissimi anni fa, e lui molto schivo e scevro da tante parole, mi diceva che lui volava, io gli dissi della mia prima fotografia realizzata con un aliante da me costruito con una larghezza l'area di 2,50 metri, con una macchina fotografica attaccata sotto e feci la prima mia aerofotogrammetria e così partì per il mio futuro che è quello attuale. Giuseppe De Pretis, presidente Fondazione Cariarte, si inaugura questa vertigine ombra, una mostra molto bella, dove diceva Massimo Duranti questa ariopittura così chiamata, quindi si sono unite le opere di Dottori e Bruschetti, che sono già dei passeggisti famosi, che hanno descritto l'Umbria, insieme a un fotografo che ha cercato di dare oggi visione dall'alto, con elicotteri, droni, con le nuove tecnologie, quindi l'idea di unire, di fare un quadro dell'Umbria che attraversa sia il Novecento che i tempi moderni. Sì, grazie. Guardi, noi siamo veramente orgogliosi per l'inaugurazione che avverrà oggi pomeriggio di questa mostra, perché questa mostra è stata interamente concepita all'interno della nostra struttura e oggi noi la inauguriamo, quindi la apriamo al pubblico, che speriamo sia numeroso, ma soprattutto poi bisogna sottolineare che abbiamo recuperato sia opere molto importanti e poco conosciute dei nostri pittori futuristi, Bruschetti e Dottori, e poi abbiamo recuperato tutto il patrimonio della fotografia di Paolo Ficola, che ha un archivio enorme e che oggi abbellisce veramente questa mostra in modo molto, molto importante. Tante cose, anche opere ineriti, ridottori, di mostre private, quindi anche l'opportunità in più, insomma, è un'occasione in più per venire a visitare questa mostra. Certamente, abbiamo recuperato, appunto come dicevamo prima, opere che non erano conosciute e quindi è un'occasione in più perché anche gli appassionati di arte, i critici d'arte, oltre che ai turisti, gli appassionati possano veramente venire a visitarla. Ecco, è molto emozionante e è molto evocativa dell'Umbria e dello spirito umbro e quindi invito tutti a partecipare, a venire. Grazie. Grazie.